Allora discutiamo dell'idea di delegare tutte le decisioni alle macchine, ai software, perché anche questa è una cosa che dall'ultimo Zeitgeist, anche se veniva fuori anche dagli altri, insomma mi ha lasciato un po' interdetto. Dove va a finire tutta l'evoluzione umana, la nostra cultura, le nostre cose? Se anche fossero capaci di fare tutto quello che fa l'uomo, ma meglio all'ennesima potenza, siamo sicuri che vogliamo lasciare tutte veramente la capacità di decisione calcolatori? Capisco il tuo dubbio e la tua preoccupazione, perché è molto comprensibile, molto condivisibile e ti inviterai a leggere gli episodi della mia vita nel Venus Project. Abbiamo pubblicato il primo, adesso stiamo per pubblicare il secondo. Abbiamo realizzato queste cose proprio perché abbiamo riscontrato questa difficoltà o addirittura questa incapacità di immaginarsi come può essere in processo decisionale in una società basata sul metodo scientifico. Quando diciamo che deleghiamo una decisione alle macchine, non significa che le macchine in qualche modo prendano iniziativa e cominciano a fare cose delle quali noi siamo all'oscuro e dobbiamo subirle. Questo è quello che ti vuole fare credere Hollywood con i suoi film che ti mettono paura della tecnologia, dove ci sono i robot che a un certo punto gli vengono fuori gli occhi rossi e cominciano ad ammazzare tutti perché pensano che l'umanità non serva più a niente. Questo è Hollywood, questa qui non è la tecnologia, queste sono idiozie. Quello che tu fai per esempio quando utilizzi una calcolatrice oppure quando vai dal macellaio? Non è che prendi in mano la carne o se vai dal verduraio prendi in mano le patate e dici secondo me sono due chili e mezzo. Cosa fai? Le metti su una presa e vedi sono due chili e duecentotrenta grammi. Ok, a quel punto chi ha preso la decisione che sono due chili e duecentotrenta grammi? L'hai presa tu o l'hai presa il computer? In questo caso la pesa. La presa ovviamente la pesa, però dichiara l'intenzione di prendere le patate. L'intenzione era tua, quindi semplicemente il computer è diventato un'estensione di te stesso e ti ha aiutato ad arrivare a una decisione in modo preciso. Quindi quello che proponiamo di fare noi è quello di metterci d'accordo solo sulle intenzioni. Per esempio noi ci chiediamo che cos'è che vogliamo fare? Tu ti devi semplicemente mettere d'accordo su quello che vuoi fare e dopodiché il modo in cui lo fai viene deciso attraverso un processo di inferenza che è un processo tecnico di decisione che è basato sempre sulle informazioni che è a disposizione. E chi è? La gente più bravo a prendere delle decisioni in base al numero di informazioni che è a disposizione e al modo in cui li puoi combinare. E caspita, sono i computer connessi alla rete globale di informazioni e i più grandi database che esistono. E più computer sono interconnessi, più questi ti danno una soluzione migliore. Questo cosa vuol dire? Immagina che tu devi costruire per esempio un ponte. C'è quello che dice io lo voglio così, io lo voglio colà, io lo farei di plastica, io lo farei di vetro, io lo farei di argento. Quali sono le risorse disponibili? Qual è l'impatto ambientale? Quanto tempo di costruzione? Che cosa ti serve? Quali sono? Capito? Tutte queste cose qui sono dati tecnici che tu inserisci dentro a un computer e dopo di che il computer ti dice si può fare? Con questi materiali hai questo impatto ambientale, questa resistenza, questa percentuale di lavori, questa qui è la probabilità che crolli entro questa scala Richter di movimento, queste qui sono gli smottamenti che possono... Sono tutti dati tecnici. A questo punto il computer risponde con dieci possibilità, una delle quali è la migliore per quel contesto, in quelle condizioni, un'altra è migliore per un altro contesto, in altre condizioni e fai la tua scelta in base a quelle risposte. Non è che il computer autonomamente, senza chiedere un cazzo a nessuno, comincia a costruire ponti, a buttare giù case e ad ammazzare gente. Semplicemente tu, quando devi fare qualcosa, chiedi al computer qual è il modo migliore per farlo e il computer te lo dice. Questo è il modo in cui funziona e questo è quello che intendiamo per delegare il processo decisionale alle macchine, che è semplicemente un supporto alla tua intelligenza e stendi il tuo cervello al cervello globale di tutto quanto il pianeta, che ti risponde in tempo reale facendo miliardi di miliardi di operazioni al secondo. E questo riguarda tutti i problemi tecnici. Per quanto riguarda i problemi morali, diciamo, questa è una cosa che i computer ancora non possono fare e quindi non ha senso delegarle all'opera. Ed è una cosa che dobbiamo vedere noi, ancora, come umani. In un futuro magari i computer ci potranno dire agire dal punto di vista morale, ma non è oggi. Oggi ci possono dire come costruire ponti, come costruire case e come fare un piatto di riciclaggio. Quindi la moralità, il comportamento e queste cose lo dobbiamo decidere noi. E queste due decisioni sono importanti da fare. Grazie a tutti.